Musica 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 Ciao amore Benvenuti Mama Ci siamo qui col picchietto Tu c'erano dal tavolo non mi chiede sta mangiando il patente? esatto andò tutti in lupi e basta che non muoio, sono focata non muoio non muoio, sono focata no dai, i signori ti prendo il risultato di me, madonna ma te devi inizio con la chip no eh no faccio il cuore all'asciuglio o te lo fanno si, si beviamoci su beviamoci su non mi mi ha sentito è un mezzo disattivato, io che l'ho distrutto ancora ma non fai a fare un minio ricatore più oltre morte orgo 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 sei dei calamati ne ho ucciso uno Dio mio ne avevo davanti due cazzo mi sono cagata in mano gli sono andata in braccio con la zip cioè devi vedermi te la giuro mi sono andata in braccio con la zip mi sono cagata in mano due l'altro è solo se c'è camera se ci lampeggia dove sono? non lo so ci lampeggiava arco ah 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 oltre patricolo eh ho bombardato un po' però non c'era nessuno oltre patricolo mi ha scuracciato non so chi solo io ecco ecco ero ucciso quasi impara a scuracciare una donna oh ecco uno mezzo mezzo disattivato dai dai questa parte mi piace sai di me piace anche a me perchè ha distrutto no perchè sono nabbi quelli che qui devono i cararmati esatto sono nabbi impattuti ahahah sai figa giuro due cararmati avanti io con la zip non mi hanno ucciso nooo è una figa di merda è una cosa scandalosa c'è sono scoppiato io c'è un nemico a te c'è uno a piedi uno sulla zip e un cararmato io non ho più aerei perchè uno ha ucciso l'elicottero prima di me io ho preso in pieno la carcassa adesso vedo di pronto attendi uoh mica si fa fuori dei nemici uoh paura e panico dentro di lei una zip nemica vabbè alla sinistra non lo so attenzione il zip è stato distrattato paura la bombando io wow mezzo disattivato e c'è l'estintore anche per il coro ho sbloccato l'estintore per l'area ma è l'estintore veni con me, ti prendi gli stessi merda eccoci eccoci qua ragazzi, aiuto marmellata di fragole disegnare regole sono solo quella, sai perchè perchè io sento solo quella perchè mio fratello niente l'ascolta ogni cazzo di giorno e non lo so perchè sento solo col pezzo nella mia testa, forse perchè è più alto perchè comunque di tornare non cantano più più no a parte questo aia aia no non ci credo aia arrivo sopra la casa si va anche, ecco cazzo ma perchè c'è un carro armato dietro la casa la contraerea silica nell'area attenzione io sentivo il rumore come ha fatto? non ho ancora armato un'antiaerea che palle mi hanno pelato anche l'elico aia 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 attenzione aia aia la mal replaced cosa no ok ma io fai impossibile ATENZIONE PRECEDIAMO LIEBIETI DI PASSO UGO Io continuo a dire qua? 799 E' di fronte fatiguiti Allora, allora Ho dovuto uccidermi però Ho dovuto uccidermi per far fare qualche armato Perché non hai lasciato uccidermi e ho fatto Puff, sono fatto anch'io La tua vita è di uccidersi per amore E' amore per l'altro Non riesco più a amore Sono troppo in alta quota Abbiamo neutralizzato l'obiettivo Ma non giro Poi non giriamo insieme Non abbiamo il gioco di squadra Il tuo cazzo è sto gioco di squadra? Ostia Tanti Il gioco di squadra è essere fonte di salvezza per tanti esseri militari Per tanti esseri militari Il gioco di squadra è tutto Quindi Cazzo Notte è una mossa Ci vuole il gioco di squadra 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 Assistenza di eccezione Ci vuole il gioco di squadra Ci vuole il gioco di squadra Ci vuole il gioco di squadra ci vogliono, ciò con la squadra porca puttana, c'ho ancora un botto ad vivo ma mi sono sognato ancora un botto davanti a mua mi sono sognato mi sono sognato mi sono sognato spaccolo tutto mi sono sognato in a sul tetto tommeno tommeno oddio, oddio, guardi in a quanti coglioni ci sono guardi in a wow 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 arrivo è impossibile, cazzo no si mua attenzione massima allerta, ho individuato un centino nemico, passo c'è qualcuno? c'è qualcuno? i rossi c'è un caro armato cazzo abbiamo neutralizzato l'obiettivo, passo caro cazzo eh vaffanculo me lo ritrovo da 2 1 2 2 2 4 4 4 6 6 8 5 e 6 6 8 8 8 9 10 11 si ma... qui sta beh no dai MAG mi sono scherzato superi è stata avvistata una jeep nemica nell'area passo oh colpa alla testa con il mitra dell'aereo buco mi hanno preso nell'ano madonna c4 a posto c4 a posto c4 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 c5 no me lo sto facendo dire che aromat me lo hanno fattuto ma io me lo hai fattuto tu si ma stai 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 pesce di basta guarda qui No, basta, basta, sono facendo esplodere e me lo uccidono, e io ovviamente muoio per chi? Per la terra di fianco, e tu no, ovvio, io sono venuto giù siccome eri in base a nemica, perché? Devo sempre morire io, e tu ridi? Perché non mori su, non mori per me? Che no, devi fare il caravanti, i punti, cosa stavo per fare io, però io voglio aprire l'antiaereo dietro, tu... Non mi dico paura tè di cattivo nooo tè cattivo tè io io ho detto cazzo tè di in pericolo che ero a sbuffare Dio mio caro armato io vado nooo non ho detto cazzo tè ciao sono disperata cazzo 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 sii quel cazzo non ho più cattivi come me come sono tutti cattivi abbonatore mi sa che mi odio questa sono io abbonatore non c'è che siamo ad Halloween cazzo ecco appunto non fai gli auguri a tutti quelli che vedranno sto video di Halloween happy Halloween happy Halloween mi raccomando pochi dolci più scherzati pochi dolci fanno male i denti scherzati fanno male il culo insomma secondo me se fate troppi scherzati cattivi ne prendete anche di botte quindi non so cosa vi convenga fare cazzo oddio sono andato addosso prima ho fatto danno all'elicottero dopo li sono andato addosso ho fatto furia stradale in pratica doppia che vabbè in pratica tutto quello che ho fatto 410 punti con l'aereo con l'aereo mi piace attenzione l'obiettivo è stato aperto fatto venga anche io sull'elicotterino che strano vai corrimi corri corri eh sa che non lo prendo vai 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 attenzione abbiamo preso l'obiettivo passo ora non ti ha presa ah wow no no cosa fai? ah c'è il liberatore? no non so non so non so non so non che non muoio via via oh se vi qualcosa vuole riparare qualcuno che me la ripari per favore si vi amo vi amo la foto ma no d ti 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 il mio era morto uffa mi stavo divertendo TEDDY! TEDDY! aspettami TEDDY! non l'ha cattumare c'è quel collo qua di cartello no ma l'ho ucciso, sono nemico che arriva in C ma po' che ho capì mamma mia mamma mia c'ho cagato la dose c'ho davanti per il filo c'ho cagato la dose c'ho cagato la dose c'ho cagato la dose no non ho preso i punti di cima 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 attenzione l'obiettivo è stato perso passo eh che sparano a me che sono la PD di questa città no è la 0 la 0 la mia difesa grazie grazie dove hai? dai 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 senti l'ultimo posto no ma spara gli spazi diciamo no non ho spara nessuno dai tra poco la finita la finita è la partita no la finita è la finita cosa vuoi? cosa vuoi? non ci ho mai cosa vuoi? bella 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 perchè zii? che schifo ho detto una parola a bing kim bono bella 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 oh ah tanti sono la tua patata vente ti dice che ti ruzzo il culo oh oh attenzione carabinato oddio che sta la mochina ok tu 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 stai attento che te lo metto nel trumento ah mi sparano tu tu non ho paura ho tanta paura vede l'ebreo che mi attacca vede 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 sono incastrato accucci ti cammina sotto accucci ti cammina sotto come oh tanti d tanti vede vede p tanti vede mi saluto tämä pesce tutto assolutamente e ho questo